Musica Ultima edizione di Stadionews24 In studio Giovanni Mazzola Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro la Lazio Un programma domani alle ore 12.30 allo stadio Renzo Barbera Il rosa nero hanno svolto dopo i controlli esercizi di riscaldamento Un lavoro tecnico-tattico in campo La seduta si è conclusa con una partita in posizione ridotta del campo Tiago Cione e Giancarlo Gonzales hanno lavorato regolarmente col gruppo Prosegue il programma di recupero degli infortunati in casa a Palermo Seduta differenziata per Norbert Balog Accorcio e Bentivegni, Carlo Svembale e Alexander Stregoschi Hanno svolto allenamento differenziato E si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti Terapia infine per Simone Giuliano Daniele Faggiano, direttore sportivo del Palermo Ospite della trasmissione Palermo in radio Su Radio Palermo Centrale Ha parlato dell'attuale momento dei rosa nero Reduci da 6 K.O. consecutivi Ascoltiamo le sue dichiarazioni È una partita difficile per me, per tutti, per l'ambiente È normale che non è semplicissimo Dopo 6 partite 18 punti persi Per cui abbiamo cercato di portare a casa più punti possibili Noi certo non siamo abbattuti già prima di andare a giocare Non ne avevamo abbattuti neanche prima Però i punti sono stati zero Possibile svolta sulla cessione societaria del Palermo Tra l'8 e il 10 dicembre L'accordata asiatica dovrebbe presentare Un'offerta di acquisto al presidente Zamparini All'incontro prenderanno parte anche i mediatori kazaki Che finora hanno fatto solo da mediatori con Pechino E il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando La gara con il Genova è alle spalle Per il Palermo primavera è tempo di tornare in campo Seconda trasferta consecutiva per la squadra di Bosi Che oggi scenderà in campo contro i parietà del Piso Nella non aggiornata del campionato primavera team Calcio inizio alle ore 14 al comunale Taccola di Uliveto L'Italia torna a Palermo Sarà allo stadio Renzo Barbera Ad ospitare il prossimo 24 marzo Calcio inizio alle ore 20 e 45 Italia Albania Quinto impegno per la nazionale di Giampiero Ventura Nelle qualificazioni europee Alla Coppa del Mondo Tifa di Russia 2018 Per tutte le altre notizie Stadionews.it Grazie a tutti